buongiorno buongiorno ragazzi come state insomma comincia un'altra giornata che sarà piena per il tennis italiano per esempio con il ritorno in campo di sinner il debutto di lorenzo musetti in quella di basilea e sarà un'altra serata di champions con il napoli già promosso agli ottavi di finale di champions dopo le prime quattro vittorie nel girone che veramente sono state una dimostrazione di forza da parte della scuola di sparletti l'inter l'inter proverà a suggellare a ratificare ormai la qualificazione basta un punto la partita in casa contro il vittoria appelsen c'è chi invece non passa al turno successivo di champions che dice sempre che non è un fallimento perché giustamente per lui non è un fallimento insomma prendere 9 milioni d'anno per non allenare insomma tutti per non lavorare in pratica tutti lo vorrebbero fare c'è uno che in questo momento lo fa grazie a una testardaggine da parte del presidente addirittura gli ha fatto anche un contratto bello bello ricco e bello lungo lui figuriamoci se si dimette insomma le colpe non sono assolutamente mai sue anzi ieri sera se avessero pareggiato si sarebbe parlato di su per reazione juve quando sarebbe stato lo stesso un fallimento e la juve che viene travolta dal benfica perché poi finisce 4 a 3 ma viene travolta dal benfica il benfica si ferma negli ultimi minuti è un 4 a 3 bugiardo che poteva essere tranquillamente 5 a 3 se non 6 a 3 se non anche 5 a 2 6 a 2 è un risultato comunque estremamente netto poteva essere appunto anche una lezione più severa da parte dei portoghesi nei confronti della juventus della seconda fra anda per ritorno prescindere poi che in questo momento poi il benfica sia sicuramente più forte della juve sia più squadra della juve la juve che prende 3 gol in un tempo 4 gol in 50 minuti che non va mai l'idea praticamente di giocare mai di costruire un qualcosa ma appunto sono tutte reazioni di pancia sono tutte reazioni dovuti al momento al carattere ma mai qualcosa di strutturato sempre un qualcosa di improvvisato una squadra che appunto vive di qualche fiammata di di giocate individuali di giovani che entrano alla disperata dalla panchina probabilmente insomma allegri neanche anche troppo ci credeva questi giovani insomma magari li butta in campo un po così alla disperata e questi giustamente magari danno una scossa proposto di gioco organizzazione squadra valorizzazione dei giocatori siamo non a zero siamo sotto zero ma è una situazione così della juventus insomma è difficile trovarla veramente una società alla deriva una società che è rimasta a cinque anni fa sono state sbagliate tantissime scelte negli ultimi anni adesso stai pagando le conseguenze sia essere alla pari del maccabi haifa nel girone e ti è andato anche bene poi nella partita di andata perché il maccabi ha preso il palo che poteva su 2 a 1 poteva andare su 2 a 2 magari la juve non andava neanche Europa League adesso francamente risulta difficile che la juve non riesca ad andare in Europa League vediamo insomma però c'è neanche da dire esci dalla Champions ti concentri sul campionato la juve è questa la juve è una squadra assolutamente in questo momento non squadra non c'è niente nella juve non si vede niente non si vede una progettualità non si vede una traccia non si vede un futuro tutto nasce chiaramente poi dalla gestione dirigenziale poi da chi hai affidato e confermato la gestione tecnica per quest'anno perché Pirlo vince due trofei non viene confermato Sarri vince lo Scudetto non viene confermato lui arriva quarto non vince neanche un trofeo e invece viene confermato diciamo che c'è qualcosa che non torna insomma più che altro proprio anche a livello di trattamento rispetto agli allenatori precedenti insomma si è fatto anche un po' un torto perché insomma è alcune ingiustizie anche qualcosa di poco meritocratico quello che sta accadendo alla juventus stai dando veramente un'immagine sbagliata brutta non bella direi anche proprio di gestione stai dando un'idea proprio di un allenatore che è trattato in maniera diversa rispetto ad altri nonostante poi non abbia assolutamente nessuna certificazione una squadra c'è che funziona ed è il Milan che veramente ha vinto una bella partita a Zagabria non era banale perché comunque la Dinamo presenta dei giocatori comunque di una certa qualità e il Milan veramente ha banchettato vinto veramente bene 4 a 0 in Croazia con un layout super ma anche il gol di Gabbia comunque è la testimonianza di un gruppo proprio che c'è che segue l'allenatore di una crescita fatta negli ultimi anni dello scouting fatto dalla società cioè vedi i giocatori presi tra i Tomori, Caluro, i Vrancs addirittura quest'anno si vede proprio un lavoro un lavoro alle spalle uno scouting un Maldini che secondo me è il miglior direttore sportivo in Italia insieme a Giuntoli ha dimostrato oltre poi appunto le sue grandissime competenze la sua grandezza in campo anche la sua grandezza competenza serietà anche in un ruolo dirigenziale fuori dal campo perché poi tante volte si fa tutta questa confusione che un grande giocatore deve essere anche un grande dirigente non è assolutamente vero ma il Dini in questo caso è straordinario in entrambi i ruoli perché è anche una persona di una certa levatura ecco veramente complimento il Milan perché ha giocato una partita intensa una partita di personalità una partita che comunque era decisiva per spianare le cose nel girone perché adesso manca un punto per per passare il turno un punto in casa con con il Salisburgo cosa comunque possibile il Milan si è messo nelle condizioni di avere il destino in mano ormai quindi il girone è stato raddrizzato dopo due brutte sconfitte con il Chelsea soprattutto la seconda che comunque bruciava perché in casa comunque c'era stato quell'episodio del rigore dell'espulsione estremamente discutibile e quindi veramente importantissimo per il Milan ripartire così ed è anche una vittoria che può dare una sterzata poi al cammino del Milan in Champions perché già in campionata comunque il Milan sta viaggiando forte rimane a contatto con il Napoli c'è da sistemare un po' il riposo in Champions un ottavo di finale comunque per questa squadra è anche una tappa secondo me naturale è anche una tappa giusta per la crescita perché per quello che sta proprio dimostrando il Milan per quello che comunque ha dimostrato proprio in questi ultimi questi ultimi tempi cioè già dal dal campionato dal post lockdown in cui poi è arrivato il quinto posto poi il secondo posto poi lo scudetto dello scorso anno poi quest'anno comunque in cui parti dal campione d'Italia rimani lì in campionato la tappa ulteriore era anche crescere in Champions è una squadra che proprio è andata per tappe che è cresciuta piano piano attraverso la progettualità attraverso i giovani attraverso magari non un campionissimo il campionissimo è diventato Leao però lo è diventato poi è una squadra che si fonda su elementi funzionali non ha tutte queste singolarità soprattutto è una squadra ben amalgamata ben allenata ben assemblata che gioca a un calcio moderno nella quale vedi un'idea nella quale vedi una proposta vedi un lavoro alle spalle che nella Juventus manca da tanto tempo d'altra parte i risultati si vedono e direi che sono sotto gli occhi di tutti appunto stasera il Napoli e l'Inter fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate la valanga di un piacere al video condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e a questo punto arrivederci raga e ci vediamo al prossimo video 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 grazie a tutti